Ma dalla loggia della Basilica di Assisi annuncia con soddisfazione anche il decreto con la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione di Genova. Sono davvero lieto di annunciare che è pronto a Roma il decreto che firmerò nel pomeriggio che nominerà il nuovo commissario straordinario nella figura che abbiamo ritenuto più idonea, il sindaco di Genova Marco Bucci. E appunto nel giorno in cui il suo sindaco diventa commissario straordinario Genova vede transitare il primo treno sulla linea ferroviaria che passa proprio sotto il ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto.